eccoci qua qui invece parliamo della versione kissa questa è sempre prodotto italiano sempre artigianale vede come sono robusti gli interruttori e tutto da dove si differenzia rispetto al modello lady 2000 da un ferro da stiro che si chiama il ferro tulipano con l'anima in metallo ecco perché gli dicevo questi non si rompono se cadono devo stare attenti alle piastrelle perché sono ferri robusti anima in metallo manico in sughero qua abbiamo l'interruttore laterale quindi io in questa maniera ho la mano con l'interruttore laterale che è in una posizione di riposo essendo prodotti professionali che li fanno per chi stira molte ore sono proprio studiati perché la mano non si sta anche il braccio non si sta anche quindi ferro da stiro modello tulipano con cromatura gettito di vapore anche qui sempre in punta quindi un vapore molto concentrato e zona stiro anima in metallo pulsante laterale anche qui il vapore entra direttamente nella base del ferro dove si dove c'è anche qui questo nido d'ape questa qui è la caldaia kissa in abbinata al suo ferro si differenzia dalla precedente perché qui parliamo invece di un litro e due di acqua in realtà la caldaia è un litro e quattro ma effettivi ci vanno un litro e due di acqua di rubinetto sempre abbiamo il anche qui l'interruttore dell'accensione della del ferro l'interruttore dell'accensione della caldaia che naturalmente si accendono regolatore scusate spia pronto vapore quindi quando è pronta la spia si accende spia mancanza d'acqua e regolatore di vapore anche qua io tengo premuto e decido quanto vapore erogare nella nel nei tessuti anche questa vede un pochino più slanciata come linea sempre con la sua asta che è importantissima come le dicevo mantenere e questa qui avendo il ferro tulipano che un ferro un pochino più professionale rispetto alla versione col tasto centrale qui parliamo di 287 euro poi dopo le dirò poi sempre anche perché c'è la spedizione gratuita su questi prodotti quindi kiss made in italy anche queste sono eterne prodotti che li vendiamo da anni anni stiretture strepitose le faccio vedere un altro modello quindi 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 quindi